Ciao a tutti, siamo qua al Palagators con i giocatori Nicola e Riccio Ercole a commentare la vittoria contro Chieri, una bella vittoria per 75-53 per noi. Partita spigolosa, inizio brutto, con il classico parziale che ci prendiamo ultimamente 10-0, dopodiché invece ci siamo ripresi, un buon arese dalla distanza ha ricocito il gap, dopodiché tutti hanno dato il loro contributo e siamo riusciti ad arrivare fino a più 20. Prima domanda al giovane Riccio, come hai visto la partita, descrivici un po', per te cos'è che è andato bene questa volta rispetto alle due sconfitte precedenti? Ma allora, inizialmente abbiamo un po' visto gli spettri delle partite precedenti per come siamo partiti, poi siamo riusciti un po' ad aggiustare le nostre dinamiche, abbiamo messo a posto la difesa che è un po' stato il nostro punto forte del girone d'andata, che nelle prime due partite non era proprio stato a livello e poi abbiamo ottenuto un buon livello per tutta la partita, siamo riusciti a eseguire i nostri giochi come avevamo fatto prima di Natale e non eravamo ancora riusciti a fare completamente. Però è stata alla fine una buona partita, soprattutto negli ultimi due quarti siamo riusciti a tenere un distacco adeguato e quindi ne usciamo abbastanza positivamente questa partita. Ok, adesso invece andiamo a un veterano, dal giovane al veterano Walter, vecchio, non vecchio, esperto diciamo così, gran partita la tua, difficile da tenerti sotto canestro, i tuoi compagni te ne ho cercato, sugli scarichi, dici un po' se ti sei trovato bene finalmente e anche il metodo arbitrale forse questa volta è un po' meglio delle altre o a tutti i dati un po' i lunghi, dici un po'. No, è andata bene, ultimamente sto segnando solo su Assis dei compagni quindi non posso che ringraziarli, sono bravissimi. Avevamo sto spavoracchio di fuso che la settimana prima ne aveva fatti i 30, i giovani l'hanno tenuto bene e sotto canestro abbiamo fatto la nostra. Di là c'era due o tre elementi alti e grossi, vabbè spigolosi siamo anche noi quindi non è una novità, speriamo di continuare così. Ok, adesso prossima partita contro Mondo e Vincasa, Riccio ti ricordi l'andata? Beh, dimmi di sì, no, 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 scherziamo. Adesso loro sono un po' della classifica ma sempre una squadra da temere, grossi, loro punti diamanti, imparato pure, voi guardie mi sa che avete un lavoro surplus per tenerli. Eh sì, l'andata è stata una partita dall'inizio un po' non semplice ma siamo partiti bene e poi ci siamo un po' lasciati andare in corso d'opera però siamo riusciti poi a tenere il vantaggio e vincere, speriamo di avere una buona prestazione anche al ritorno insomma. Un messaggio per tutti invece i piccoli, Gretto, a venire? Tu che sei super istruttore della zona motocar, hai un appello da fare? Ah no, venite pure a vederla, speriamo sia una bella partita, a Mondo e Vincasa abbiamo un sacco di amici, almeno io ho un sacco di amici, speriamo sia una bella partita, tutto qua, venite, venite. Tu hai amici ovunque, bisogna anche dire questo. Allora ci vediamo venerdì prossimo in casa contro Mondo e Vincasa, mi raccomando tutti i presenti, ciao! Allora ci vediamo venerdì prossimo in casa contro Mondo e Vincasa, mi raccomando tutti i presenti,